Sono rassicuranti dati sui contagi evidenziati dal governatore della regione Campania Vincenzo De Luca nel suo consueto aggiornamento del venerdì. Anche sul fronte della scuola la situazione resta sotto controllo. Per quanto riguarda la campagna vaccinale si procede con la terza dose. Abbiamo in Campania ormai l'80% di nostri concittadini sopra i 12 anni che hanno fatto anche la seconda dose sono immunizzati. Stiamo procedendo anche alla somministrazione della terza dose e poi dovremo ovviamente contestualmente far partire, ma siamo già partiti, prima regione d'Italia per le vaccinazioni anti-influenzali. Quali sono gli obiettivi che abbiamo dal punto di vista del Covid? Primo obiettivo ovviamente per la tutela sanitaria dei nostri concittadini è quello di uscire definitivamente dall'epidemia. Abbiamo due obiettivi interni a questo obiettivo generale. Primo, non chiudere più le scuole. Secondo, non chiudere più le attività economiche nella nostra regione. Questi sono gli obiettivi. Ad oggi non registriamo grazie a Dio focolai nelle scuole della campagna e prosegue l'attività in presenza. È una cosa di valore straordinario. Non manca un riferimento di De Luca alle attività economiche che sono riprese dopo un periodo di grande difficoltà. Di qui l'ennesimo appello a continuare a vaccinarsi. Oggi queste attività, grazie alle vaccinazioni, sono aperte. Dobbiamo fare in modo che non si richiudano per responsabilità di quelli, una minoranza esigua, che ritengono di non vaccinarsi. Allora, vediamo di fare ancora una volta, per quanto possibile, un piccolo ragionamento. Oggi in Italia più dell'80-83% dei cittadini si sono vaccinati, almeno con una dose. In Campania abbiamo, ripeto, l'80% che hanno fatto la seconda dose sopra i 12 anni. Il senso di responsabilità, il senso civico dei nostri concittadini ci ha consentito di raggiungere questi obiettivi. Siamo a un passo dal superamento dell'epidemia Covid. A condizione, ovviamente, che i nostri amici no vax, no green pass, non producano da qui a qualche settimana una nuova stagione di contagio Covid. Allora, ogni 48 ore ti fai il tampone e te lo paghi. Dici, ma deve pagarlo lo Stato. E perché deve pagarlo lo Stato? Nel momento in cui ti offre la possibilità di farti gratuitamente il vaccino. Perché non me lo voglio fare. Bene, le tue fisime, i tuoi sfizi, te li paghi. Punto.